Noi facciamo, io quello che consiglio è bisogna allargare un attimino spaziare dalla logica del prezzo, quindi da solo una convenienza sulla bilancia, alla logica del valore. Perché questo? Perché se l'oro in quel momento è determinato in quel valore, è quello che giustamente possiamo acquistare. È vero, l'oro è molto reattivo se vogliamo rialzi e ribassi del mercato. Molto volatile si usa dire. Molto volatile, però noi come dicevo prima ci rifacciamo un po' a quello che è il discorso del risparmio. Se mi permetti Gianluigi una piccola precisazione. Noi non siamo alternativi alla finanza, ma siamo complementari, mi spiego meglio. Il risparmio si origina normalmente nel tempo, quindi uno da un'entrata più o meno continuativa cerca di estrapolare una parte dei suoi guadagni, per metterli da parte. Lo scopo di questa iniziativa è quello di dire voglio avere da parte una somma, se un indomani posso avere dei bisogni, delle necessità e quindi trovarmela. Questo tipo di operazione cosa richiedeva negli anni? Richiedeva semplicemente che la prima preoccupazione era che il denaro accantonato, al momento del bisogno rispettasse il mio potere d'acquisto, quindi che fosse quantomeno protetto sull'inflazione. Quindi chiedevo semplicemente quello, non avevo. E poi ovviamente oltre all'inflazione che non dovessi perderlo. E quindi potevo rinunciare volutamente. La regola di Warren Buffett, la prima è non perdere. Perfetto, la prima è non perdere, quindi rinunciavo veramente a delle possibilità di guadagno e qui mi rifaccio un po' il mondo finanziario che è comunque utile e indispensabile, però tutela del fatto che il mio denaro mantenesse il mio potere d'acquisto. Quindi diciamo, allora, dobbiamo, io questo dico veramente, valutate, prima ancora di sapere il prezzo conviene o non conviene, siete coperti nel vostro patrimonio, nel vostro portafoglio di investimenti, siete coperti con dell'oro fisico. Se non lo siete, abbiate il coraggio di farlo, nella misura e nella quantità che ritenete opportuno, perché solo l'oro fisico può tutelarvi in un futuro, come riserva di liquidità e, diciamo, ci darà la possibilità di poter attingere e far fronte a eventuali difficoltà o necessità che si dovessero creare. Diciamo che l'oro fa un po' come un airbag, no? Certo. Qualche volta qualcuno ci viene a rimproverare il fatto... La protezione. Esatto, che è la volatilità dell'oro. Ecco, diciamo, sì, è vero, lo possiamo vedere. L'oro, io dico, è un po' come leggere il proprio elettrocardiogramma. Dipende con che ottica lo si guarda, però, il grafico. Dipende con che ottica lo si guarda. Ovviamente, se stiamo seduti, avremo un certo tipo di andamento del nostro diagramma. Se invece stiamo facendo degli sforzi, ne avremo un altro. L'oro reagisce allo stesso modo. Lui segue quello che è la vita, il ciclo dei mercati. E se ci sono delle difficoltà nei mercati, c'è ovviamente una certa corsa alla protezione dei propri patrimoni e questo fa incrementare ovviamente la domanda e l'oro non fa altro che salire.